buongiorno a tutti amici di pillole quest'oggi siamo con robert ciao a tutti questa splendida caiman gt4 e siamo in un posto molto particolare non so se si vede siamo al nurburgring in germania e stiamo qui per partecipare ospiti al campionato vln con che c'è una bmw serie m2 235k una 235k c'è mica ragazzi l'eser durbrug è una tazza siamo appunto parlando di come si fa ad impararsi a memoria 24 km 26 26 km di curve in mezzo al verde comparato si chiama l'inferno verde faremo un giro nel norschleife con questa bestia qua forse sarà uno dei giri in cui mi cagherò non so più della mia vita ragazzi che dire questo weekend ha quel sapore di benzina che mi mancava nooo 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 ragazzi si va nooo 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 essno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.